Salotto dello Sport, la Mario Tenerani e da Luca Calamai, buonasera è tornato a trovarci, non lo faceva da tempo e quindi con colpevole ritardo un grande amico del Salotto dello Sport è un grandissimo tifoso della Fiorentina poi da tanti anni consigliere comunale in Palazzo Vecchio, capogruppo di Forza Italia, Jacopo Cellai ciao Jacopo, buonasera a voi tu sei un tifoso della Fiorentina incredibile, poi sei anche un grande conoscitore sai Luca, lui conosce anche tutti i giocatori della CNB, della Lega Pro le nostre interminabili discussioni a pranzo, a cena mi mette in difficoltà perché li conosce veramente tutti, è vero ed è tifoso viola anche da trasferta è vero Jacopo? vero, vero quindi Barone attingerà anche a Jacopo Barone attingerà anche a Jacopo e noi si bracca a trascendere l'hai incrociato oggi Barone, vero? sì, sì, l'hai visto davanti al Palazzo Vecchio è notizia allora sì, 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 l'ho visto salutato perché poi persone come si dice intelligentissima e estremamente pratica ci siamo visti una volta e subito dopo gli è rimasto in mente come credo è una dote le persone in gambe riescono subito a a fotografare visualizzare per cui mi capitava anche di rivederlo una sera in un ristorante in cui tra l'altro c'era Giocatore Fiorentina c'era Montella c'era lui e poi anche lì potevamo riparlare lui mi chiedeva come andava il consiglio comunale facevamo io dicevo beh più che altro noi aspettiamo voi consiglio comunale purtroppo di suo non è che può fare tante domande abbiamo fatto anche di recente ma non è che può dare le soluzioni che vorrebbe ora ci torneremo tra poco dopo aver naturalmente esaurito la pace dedicata al campo che tra poco si gioca perché anche oggi ci sono state delle altre novità a riguardo allora caro Luca poi vedremo il servizio a me è piaciuto molto l'intervento di oggi allora Pradeccia ha una grandissima dote che fa parte del 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 nuova era Fiorentina lui dice le cose come stanno per cui gli hanno chiesto per esempio di Ibraimovic e De Rossi e ha detto che fanno parte di un passato e che quindi non sono assolutamente più nella testa degli attuali dirigenti pur riconoscendo chiaramente stiamo parlando dei grandi campioni e poi ha fatto questa nel giorno in cui ha annunciato il contratto di Venuti cioè l'ennesimo contratto giovane che viene sistemato ha teso questa mano nei confronti di Chiesa ma come dicevi te Mario lo ha fatto con leggerezza e con grande eleganza in che senso nel senso che ha detto noi come Fiorentina speriamo che Chiesa diventi il simbolo del nuovo corso e su questo quando lui vorrà quando sarà il momento giusto siamo disposti a parlarne ti dico che l'idea della Fiorentina è quella di proporre a Chiesa più o meno il contratto che ha Ribery cioè mettere Chiesa a livello del campione più importante della Fiorentina al tempo stesso però con altrettanta lucidità e onestà intellettuale ma non con il tono dell'ultimatum ma con in questo caso con leggerezza ha detto chiaramente però le cose si devono fare a due in due e in questo momento non sappiamo quale sia il pensiero di Chiesa però ti devo dire che rispetto ad Agosto siamo in una realtà completamente diversa e io non mi sorprenderei che questo incontro che immagino ci sarà durante le vacanze di Natale potrebbe portare anche a qualcosa di clamoroso allora adesso andiamo a vedere il servizio che la nostra relazione ha confezionato per noi che ci riporta appunto alla conferenza stampa di Daniele Pradè e Lorenzo Lollo venuti solo una premessa poi ci torniamo semplicemente con Luca e Jacopo è stato bello oggi ascoltare in sala stampa questo bell'accento toscano così educato così bello così musicale perché lasciatecelo dire era diventata davvero una cosa rara rarissima nella Fiorentina ascoltare insomma un idioma così familiare evidentemente è un'altra promessa che Rocco Commisso sta portando avanti aveva detto che voleva rilanciare il Made in Italy e il Made in Tuscan nella Fiorentina Tuscani scusa il Made in Tuscan e quindi vuol dire che la strada è tracciata Lollo Venuti è cresciuto nel settore giornale della Fiorentina però per 5 anni l'hanno mandato in prestito e sentiamo che cosa ha detto oggi con la schiettezza la sincerità che contraddistingue da sempre Tuscani mi chiamo Lorenzo Venuti vengo da Inciso a Valdarno un piccolo paese in provincia di Firenze un motivo in più per impegnarsi e poi da tifoso della Fiorentina maggiormente il mio sogno sarebbe di debuttare qui al Franchi in Serie A diciamo il sogno è realizzato perché era quello dell'esordio e l'esordio è avvenuto proprio insomma la prima partita contro il Napoli per cui diciamo che da quel punto di vista l'ho realizzato beh adesso il prossimo obiettivo è quello di dimostrare di poter stare qua a casa mia in questa piazza per molti anni di cercare i miei spazi di trovare più continuità dopo 15 lunghi anni in viola Lorenzo Venuti prolunga ancora il suo legame con la Fiorentina il terzino classe 95 annunciato in conferenza stampa affiancato dal direttore sportivo Daniele Pradè il rinnovo del suo contratto fino al 2023 è stata l'identità a fare la differenza ha sottolineato il DS Pradè sperando che la stessa scelta possa farla pure Federico Chiesa tutti noi siamo sempre stati chiari nella risposta su Federico siamo contenti di quello che sta facendo Federico siamo contenti del suo modo di comportarsi del suo modo di stare in campo e ci saranno tempi modi e maniere per metterci seduti tu dentro di te pensi che Chiesa possa diventare come venuti il futuro della Fiorentina? io lo spero però spero che questo lo pensi anche lui questo poi è una cosa che dovremmo vedere insieme però non posso assolutamente dire che in questo momento non sia così allora vorrei tornare a venuti Jacopo perché insomma poi ha detto c'è stato un momento in cui pensavo davvero fosse finita perché per cinque anni mi hanno mandato in presto e mi hanno mandato in presto e mi dicevano devi dimostrare di essere la Fiorentina di meritare la maglia io ho vinto anche due campionati per carità e quindi non ci speravo che adesso invece oggi riconquisto casa mia questa nuova sfida devo dire un po' di solidarietà a Venuti va data perché forse è arrivato Cafu su quella fascia ma insomma anche Daniele Carnasciali o Torricelli lo potremmo capire ma noi abbiamo visto passare come dire dei carneadi non parlo di Bruno Gaspar di Dix Lorini forse dei tre era il migliore però insomma è tutto da dimostrare che Venuti sia peggiore Lorini quindi un po' di ragione ce l'ha questo ragazzo non c'è dubbio anche se io lo voglio leggere che questo accade anche in tante grandi squadre in cui i giocatori arrivano fuori per parecchi anni e poi tornano quando sono pronti per dare effettivamente il contributo con la maturità conseguita fuori quindi leggiamola in questo senso messa altre qualità poi non c'è dubbio che i giocatori si sono visti che Ricordavi ci poteva stare è comunque un bel passaggio perché l'identità è un tema importante anche per questa squadra e quindi il fatto anche di vedere un ragazzo ha cresciuto le giovanili con quella immagine stupenda di lui che sogna l'esordio e poi oggi realizza il suo sogno è anche uno spot per il calcio onestamente è anche un segnale per tantissimi ragazzini che giocano in tutte le squadre di Firenze e che hanno lo stesso sogno quindi sono una bella pagina anche di sport oltre mi siamo un ragazzo molto interessante e Luca se sta in questa fioritina è in rosa perché non è che fa il titolo è l'alternativa all'Irola d'accordo certo qualche volta può andare anche a sinistra se sta in questa fiorentina Luca a maggior ragione potrebbe stare in quella della preceduta in rosa voi ti ricordi Piccini? ecco se ti ricordi più forte di venuti no ma a me piace piace questo doppio binario della fiorentina è tutta doppio binario come dicevi prima te si cerca l'internazionalizzazione del marchio ma poi si lavora sul locale allora si cercano Ribery si è cercato questo è stato Ibrahimovic si è cercato De Rossi ma poi si lavora e si allungano i contratti a Castrovilli a Venuti probabilmente ora a Sottil se Ranieri non perderà la testa forse anche Ranieri in una squadra che se ci pensano tutti i ragazzi 97-98 ci sono dei 2000 cioè cominci a lavorare su un progetto futuro su un blocco di età questo è straordinario e poi oggi io ti dico perché oggi comincio a parlare con i giocatori di tutta Italia e oggi c'è questa realtà di Firenze e viene guardata con grandissima curiosità i calciatori sono come politici sono grandi annussatori capiscono dove va il vento lo dico sfruttando la presenza di Jacopo e quindi oggi Firenze è un qualcosa che incuriosisce tutti e nel momento in cui te società abbatti quel tetto di ingaggi che ti ricordi era di un milione e porti con Riberia 4 milioni io ti voglio dire non deve essere la logica per tutti ma se il tetto è 4 milioni e puoi avere 3-4 giocatori di quel livello puoi giocare per la Champions bravo bravo venuto e complimenti a Sottotelosport allora Luca un flash che vuole sentire Jacopo sull'argomento Ibra perché oggi girano queste voci in città su Ibrahimo mi sembra che Pradezio mi abbia donato è stato chiarissimo ma lo ha fatto non ha senso tecnico lo ha fatto volutamente ti devo dire per chiudere qualche attività perché poiché il discorso di Ibra nasce automatico perché sappiamo benissimo che c'è un periodo in cui si ferma il campionato negli Stati Uniti già è capitato se non sbaglio con Beckham corrigetemi se sbaglio giocatori che poi nel periodo della sosta hanno la possibilità magari in questo caso di venire in Italia ma ricordati la prossima frase che dirà Pradez in tempi brevi sarà che il vero grande acquisto in attacco della Fiorentina di gennaio sarà Pedro perché nelle loro valutazioni fisico-mediche in questa marcia di avvicinamento Pedro a gennaio sarà finalmente il giocatore che un anno e mezzo fa valeva 50 milioni e lo voleva il Real Madrid io so che Luca ti ha dato un dolore con il discorso di Ibra però sai Jacopo quando un direttore sportivo arriva a dire oggi non avrebbe senso tecnico chiude qualsiasi discorso perché poi tornando indietro una frase del genere diventa dura anche se nel calcio ne abbiamo viste di peggiori ma insomma sono d'accordo Luca ha voluto dare un indirizzo preciso oggi per adesso Ibrahimovic e ti dispiace lo so che possiamo fare niente poi io mi fido delle vostre valutazioni e sono sicuramente meglio delle mie quindi su questo Pedro io ho visto soltanto qualche immagine ovviamente come penso tanti e sono un vinto che sia giusto che la vera scommessa sia lui per cui è chiaro il nome Ibrahimovic insomma faceva faceva sognare perché comunque insomma tante certezze e secondo me ancora tantissime tantissime valori però sono d'accordo e dobbiamo pensare a quello che abbiamo noi che non è poco poi io credo abbiamo ancora non dobbiamo assolutamente dimenticare che mi sembra che fino ad oggi Montella abbia comunque dato l'opportunità di dare ancora anche a un ragazzo giovane come Vlaovic appunto e quindi sarebbe poi un problema se poi ci fossero altri giocatori e chiaramente chiuderebbero poi in quel senso gli spazi è stata fatta una politica intelligente anche oraggiosa sui giovani non tutti possono arrivare ovviamente nell'arco degli stessi tempi qualcuno un po' dopo se Pedro si recupera e Vlaovic sente la fiducia anche lì si può vedere delle cose interessanti non c'è dubbio che la Fiorentina arriverà a giugno Jacopo e pretenderà di avere le idee più chiare su Pedro e Vlaovic cioè capire quale dei due può essere un progetto di un titolare di una Fiorentina che fa l'Europa quale dei due magari non è pronta adesso e va mandata a giocare ma oggi se te tappi quel ruolo metti già la Fiorentina ha scelto l'idea dei due rapidi Riberi Chiesa e se te parli con i dirigenti della Fiorentina ti dicono che oggi il centroavanti della Fiorentina è Chiesa quindi se poi vai a prendere anche un sogno come Ibrahimovic allora dovresti automaticamente mandare a giocare Pedro e Vlaovic allora io direi di aprire per un istante la faccia sullo stadio che oggi è stata un'altra giornata interessante stamani complimenti alla redazione e alla cronaca di Lady Radio gran colpo perché è intervenuto il numero due di Toscana Aeroporti il dottor Naldi che ha detto con diplomazia ed educazione che insomma se dovessero costruire lo stadio a Campi molto probabilmente ci sarebbero problemi per costruire la nuova pista a Priticello il sindaco di Campi è sempre molto attivo anche sui social Emiliano Fosso è intervenuto nessun conflitto tra stadio a Campi e Visenza poi dopo è rintervenuto a Toscana Aeroporti dicendo in merito alla legazione del sindaco Campi e Visenza relativa alla possibile realizzazione lo stadio di Firenze e Toscana Aeroporti contrariamente a quanto dichiara il sindaco non ha diramato fino ad oggi nessun comunicato ufficiale non volendo entrare in una querel politica che non le compete occorre però ora esprimere la propria posizione in risposta al sindaco Fosso per quanto riguarda gli eventuali vincoli la domanda va apposta a Enac ed Enac ma ricordiamo che una cosa sono i vincoli sulle aree di rispetto altra sono quelli sugli edifici e sulle funzionalità degli stessi sulle rotte di avvicinamento poi dice dal supporto a Fiorentina vogliamo lo stadio però posso fare una 30 secondi e poi parla Jacopo allora qui si torna nel politichese che ricordatevi queste sono cose che appena arriva Rocco Oggiò gli dice mettetemi d'accordo perché qui il numero due dell'aeroporto dice non si può fare e poi fate un comunicato dicendo che non lo sappiamo ecco questa è la logica che il calcio non vuole il calcio e la politica la politica deve dire al calcio con chiarezza e non con mille voci cosa si può fare e cosa non si può fare scusami Jacopo ma ho preso la parola dalla parte della Fiorentina Toscana Roporti in qualche modo con questo intervento ha dato una bella mano al sindaco per l'area mercato non c'è dubbio però campi non mollano allora ci racconti un po' come stanno le cose Jacopo tu che dai banchi dell'opposizione stai seguendo e hai seguito anche negli anni passati sta vicendo ma quello che vi posso non vi dico niente di diverso da quello che avete letto in questi giorni sostanzialmente c'è una convinzione declamata e conclamata da parte dell'amministrazione di Firenze del sindaco Nardella di andare avanti con il progetto della Mercafir quindi con lo spostamento dell'attuale mercato della parte dell'attuale mercato che insiste sull'area dove andrà a sorgere lo stadio tutta portata nell'area nord della Mercafir dove sarebbe assemblato l'intero mercato che oggi è invece su tutta la Mercafir spalmata tutta la Mercafir liberando lo spazio per la costruzione dello stadio con questa dichiarazione di 48 mesi 4 anni come tempo sufficiente per spostare il mercato anzi prima demolire spostare costruire e realizzare il nuovo stadio io ho grandissimi dubbi che si possa realizzare in questi tempi tutto questo tipo di operazioni lo spero perché noi siamo non siamo solo tifosi di piatto 4 anni non mi torna io l'ho detto e sono d'accordo con quello che diceva Luca Lamai perché è la stessa questione senza voler fare nessun tipo di polemia però abbiamo posto quando all'inizio erano venuti fuori 5 anni fu la prima dichiarazione Ardella mentre finché c'era in itinere per così dire il progetto collegato alla famiglia della valle si parlava addirittura di 3 anni 3 anni e mezzo e anche lì noi abbiamo detto com'è che quelli che prima erano 3 anni e mezzo sono diventati 5 anni perché un anno e mezzo è tanto per un imprenditore per tutte quelle che sono le questioni annesse ora essere tornati su 4 anni io mi rendo conto non è che possiamo nemmeno pensare se si risolva tutto in un giorno il tema il tema vero è se però le cose che si dicono si possono sostenere io continuo a avere onestamente qualche dubbio sui 4 anni continuo anche a avere qualche dubbio sul fatto che la miglior soluzione per il mercato è una cosa diversa dalla Fiorentina perché c'è il lavoro ci sono i lavoratori ci sono situazioni da tutelare io avessi fatto diciamo l'amministratore avrei preferito sicuramente se dovevo ricostruire un mercato ricostruirlo in un luogo a parte cioè la scelta era stata fatta di individuare Castello per esempio per rifare il mercato ex novo secondo me era corretta in questo senso spero che assemblare l'intero mercato nella parte nord sia un'operazione che riesca a contentare anche le necessità di chi deve investire e di chi deve lavorare comunque come diceva Luca Calamai poi tutti dovranno fare i conti con Rocco Commesso fast fast cioè veloce 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 e quindi bisogna un po' correre si devono allenare un po' tutti per star dietro alla velocità di Rocco Commesso ci fermiamo un piccolo pit stop pubblicitario e poi torniamo tra pochissimo parlando ancora di Fiorentina e anche di questa partita probabile di formazione abbiamo anche un servizio per lunedì sera alle 21 al Regamonte di Brescia vi aspettiamo andiamo con la seconda parte sotto dello sport a entrare in una sorta di prepartita di Brescia Fiorentina ottava giornata di campionato 11 punti in classifica per la Fiorentina che va a casa Valotelli ma voglio dire Luca soprattutto va a casa Tonali bravo perché questo Tonali insomma sta mantenendo assolutamente le promesse in questa via di stagione un 2000 e poi andiamo sul servizio ho sentito questo pessimismo cosmico sul fatto che la Fiorentina non possa più essere in corsa per Tonali è chiaro che Tonali oggi è un giocatore di altissimo profilo però guardate la Fiorentina ne è stata si era portata molto avanti con Tonali e allora bisognerà vedere cosa sarà la Fiorentina a maggio so che hanno chiesto Cellino per non vendere aveva chiesto 40 milioni anche forse qualcosa va bene ci aveva visto bene Cellino è sicuramente un grande esperto intenditore di calcio allora vediamo il servizio che la nostra redazione ci ha preparato restano pochissimi dubbi sulla conferma del modulo il 3-5-2 quello varato per la prima volta per la gara contro la Juve anche lunedì sera nella trasferta di Brescia Vincenzo Montella riproporrà lo stesso canovaccio tattico e in attacco si rivedrà dal primo minuto la supercoppia Ribery-Chiesa in difesa Caceres è rientrato solo in queste ore dopo gli impegni con la maglia dell'Uruguay ma il difensore è imprescindibile per dare stabilità al reparto arretrato e il tecnico Viola non vuole affatto rinunciare a lui nelle ultime 5 giornate di campionato in cui la Fiorentina è riuscita a tornare alla vittoria interna che mancava da 9 mesi 2-1 sulla Samp Montella ancora non ha mai cambiato nessuna titolare al momento il più in dubbio di tutti pare essere Badel il regista del centrocampo Viola il croato è rientrato a Firenze dopo gli impegni con la sua nazionale un po' acciaccato così salgono le quotazioni di Benassi ancora fino a questo punto del campionato mai chiamato in causa dal primo minuto nel frattempo si prepara un mini esodo dei tifosi in vista della trasferta di lunedì saranno 1027 i sostenitori che seguiranno i Viola al Rigamonti un numero altissimo il più elevato di queste prime quattro gare giocate lontano dal Franchi che ha esaurito il settore ospiti situato nella curva sud dell'impianto ancora in rifacimento e dunque con capienza limitata i tagliandi disponibili per i tifosi gigliati sono andati sold out dopo pochi giorni dalla messa in vendita a testimonianza della grande voglia di ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato traguardo che alla Fiorentina manca dal marzo 2018 anche il secondo servizio firmato da Gabriele Lacchi allora andiamo alle probabili formazioni così le commentiamo insieme a Luca ah ci fa poca fatica però Mario è sempre la stessa dovrebbe essere la sesta consecutiva quindi non ve la diciamo nemmeno tanto la conoscete per appunto cronaca proprio ci teniamo un per cento per Badele e Chiesa ma insomma saranno poi in campo andiamo invece al Brescia che non è squadra catenacciara tutt'altro e qui insomma vedete c'è Tonali poi c'è Donnarumma Balotelli vedete poi Bisola a centrocampo che è un centrocampice che attacca Romulo e Balotelli è il tuo amico Romulo te non l'ha mai apprezzato no veramente io ho messo la fascia era un giocatore onesta arrivò persino in nazionale e poi è passato dalla Juve sull'Econorale dal Verona dai commentate il Brescia non è male il suo ragazzo si chiama Cistana che gioca dietro non è male per niente se ti dico ti devi finire poi posso confessare una cosa lui è un grande fantacalcista ah ecco allora il fantacalcista lui è questo gruppo un amici che se non vince fa sempre una medaglia un vince fa una medaglia che mi accusavano di prendere i consigli di Attenerani io ci ho provato una volta sono arrivato ultimo poi volte l'ho consigliato è stato un dramma questa formazione quindi ti convince del Brescia è temibile non è male non è male il Brescia l'ho visto un paio di volte ma mi sorprese all'inizio quando gioco a Cagliari non me l'aspettavo onestamente giocasse in questo modo anche se mi piace molto l'allenatore quindi questo mi faceva pensare che era uno di quelli che comunque cercava di far giocare la squadra su quello ero sicuro però insomma noi stiamo giocando bene siamo in forma quindi penso sia una bella partita è in fiducia Fiorentina è in fiducia è in fiducia dirigerà Calvarese Calvarese tutto esaurito la parte legata alla Fiorentina permettiti di dire che si è aggiornata oggi la classifica sulle presenze allo stadio e la Fiorentina che era quarta in Italia ora è diventata terza addirittura questo lo dico perché nella logica dei bacini d'utenza la Fiorentina ha un bacino di utenza stadio da Champions poi sai che noi con il salotto dello sport e Jacopo giriamo anche la regione siamo stati all'Elba eravamo un posto meraviglioso a Frassine nel comune di Monte Rotondo in Piana Maremma e in Toscana ci sono sempre stati tanti tifosi ma questo ciclone Rocco secondo me sta raccogliendo ancora nuovi tifosi in Toscana c'è la regione e Rocco commisso vuole comunque stare in rapporto alla regione ma sì perché è un personaggio talmente simpatico talmente secondo me genuino simpatico sì sì che riesce a rimanere a rimanere piacevole a subito a installare i rapporti con una facilità enorme e poi danno veramente sensibilità sono tutte persone per cui l'ho visto lui il barone il figlio che dimostrano grande umiltà proprio è quello che colpisce ecco rispetto no come gli ho pensato guardami visto che c'è Jacopo c'è lei la frase più bella divertente ho sentito negli ultimi giorni l'ha inventata Mario Senerano che Rocco Commisso oggi è il partito di maggioranza di Firenze candidati alle elezioni dovrebbero chiudere le urne per il cesso di affluenza forse è per quello l'hanno fatto arrivare un po' dopo l'elezione esattissima la spiegazione sai questo è il paese della dietrologia non Firenze l'Italia grazie a Jacopo Cellai torno a presto a trovare Giacomo un grande piacere grazie a tutti voi finisce la settimana finisce sotto lo sport però attenzione doveri casera appuntamento imprescindibile alle 21 con Viola e tutta la squadra di Rossella Petrillo Alessandro Pace e tutto il parterre di opinioniste poi lunedì ci sarà un'edizione speciale del salotto dello sport con inviato dalle 23 con inviato Andrea Calcinai a Brescia in studio a Firenze Luca Calamai a Figline studio centrale di Figline con Luca Calamai e poi collegamenti naturalmente da Brescia a partire alle 23 preparati Mario perché ti contatteremo bene io appena ho finito in sala stampa a Rigamonti vengo al salotto dello sport grazie a tutti voi e comunque buono